Tre grandi sculture che riflettono sull'idea di architettura la ribaltano. Per il terzo capitolo del progetto espositivo Slight Agitation, il South Council di Fondazione Prada ha portato a Milano un gruppo ortristico austriaco e centrico e riverente quanto basta. Il progetto, dal complicatissimo nome, si articola nelle tre stanze della cisterna del Museo Milanese su una sorta di igloo inuit che fa anche pensare a un obelisco oppure a una struttura fallica, quindi una specie di torre di babele che però rimanda anche un instabile anfiteatro, al centro del quale il visitatore è ufficialmente invitato a fumare una sigaretta. Dagli anni 90 i Gelitin ragionano sul rapporto con il totalitarismo e la performance e i loro lavori hanno anticipato l'estetica relazionale, oltre che portato avanti una severe, spesso anarchicamente divertente, critica delle istituzioni. Il progetto dei Gelitin per Fondazione Prada resta visitabile fino al 26 febbraio 2018.